Più così, perché il limite massimo è 100, io a 100 non ci voglio elevare ovviamente Claude è una mega ciofeca, ma è una ciofeca al punto che riesce ad essere divertente Io la vedo così Però da giocare in solitudine non è granché, se ti diverti farlo vedere quanto è stupido Sì sì sì, Bobby sì Oh, gioco di merda Esatto Claude, hai capito perfettamente Casu, cinque mesi bentornato Ruspe, eccola qua, l'avevo detto, l'avevo detto Mi accingo a comprare la maglietta della Fieryx Carmi Uuuuh Mettici una buona parola con Mavri, grazie Casu, grazie mille, sia del sub che dell'acquisto dello store Punto esclamativo store, se volete anche voi comprare le magliette meravigliose di Fievic Grazie ancora, bello, bentornato E si va Light, altra ruspa Oggi suona, oggi la facciamo lavorare, grazie mille Light, grazie mille Prime Comunque quando gioco, non so per quale motivo Ma quando gioco a Kingdom Come, l'audio degli alert è altissimo Sto gioco qua ha mandato a puttane pure l'alert O comunque non siamo ancora entrati in game, eh Quanto è? Tre minuti che l'ho aperto? Oh Ragazzi, è tempo di rubare! Ah, questa roba qua è tutta roba rubata, ok Non so, allora, non mi ricordo che cazzo fosse successo Ah, mi avevano preso le cose rubate e loro hanno rubate altre, giusto Allora, queste dobbiamo venderle, mi sa Suppongo di sì Sennò per quale altro motivo dovrei averle Sì Queste cose le dobbiamo vendere Allora Ma andiamo da Cicciare Intanto ci laviamo il volo My free si paga, si paga Su G2A non costa tanto 11 euro l'ho pagato io No, no, non mi interessa scommettere Non accetto Allora, vendi la merce rubata Vediamo un po' cosa abbiamo Allora, abbiamo questo e questo Basta, non ho altro di rubato, mi sa No Frittella dolce che sta andando a puttane Ok, la pancetta va a puttane E via Non ho altro No Perfetto Abbiamo premuto X Adesso parliamo del prezzo Abbassiamo un po' Lui dirà E ci siamo quasi E un altro po' Ecco fatto E via Napoli sim Eh, vuol dire kingdom come Allora Io ho tantissima voglia di rubare ragazzi Penso che rubare in questo gioco sia la parte più bella in assoluto Ma Non ne ruberò Adesso Lo faremo dopo Adesso cerchiamo A parte che siamo ricercati Non so che cosa ho fatto Non me lo ricordo Ma siamo ricercati Molto bene E' interroga i carbonai a nord Che cazzo era successo? Oddio Quanto siamo lontani Vabbè Allora Ecco qua il mio cavallo Meno male Non sia mai Oggi si impara a usare lo scudo Ma chi se ne frega Allora Dopo ragazzi andiamo a rubare Prima Facciamo la parte Tra le regolette più noiosa Che è quella di seguire le missioni Poi andiamo a rubare Va bene ragazzi Ho dato link per entrare in gruppo in privato Visto che è impostazioni della privacy Ah davvero Vabbè Effettivamente è meglio che io le abbia Se ci penso Va bene Va bene Clicchiamo Anzi lo faccio dopo Ok Mi raccomando Gears A tutti i VIP Ma i VIP quelli ricchi Non a Mauri Non agli altri streamer Soltanto i VIP quelli veri Ok Non al cugino rap Un ricapo di cosa nostra Grazie Glascorpion Grazie mille caro del Re Sub Bentornato nella Felix Army Carissimo Bentornato Devo interrogare i carbonai a nord Ok Noi andiamo a interrogarli E via E via Mi raccomando senza casco Ovviamente Manco a dirlo Guarda Mi sa che ci aspetta Una lunga Passeggiata In codesti Boschie Di che parliamo Nel frattempo Quante dite già Bella Vittogalli Nessuna Nessuna Stiamo Seguendo la storia principale Dopodiché ovviamente Andremo a rubare di notte Quello è scontato Allora In teoria Suppongo di seguire la strada giusta Accampamento Oddio C'è tipo un lettino Vai Vai Un'oretta E si dorme E si dorme Vediamo un po' Ehm Vai Andata Oh Vediamo se qualcuno Verrà romperci il cazzo Magari è il letto di qualcuno Come i barboni Esatto Esatto Oh Vediamo un po' No Nessuno Ok Come fosse il mio Ragazze Come fosse il mio Top Vado qua Magno Buonissimo E si prosegue Che bella vita Ragazze Avete visto? Questa è la 1 Milano Napoli Allora Direi che Non stiamo per niente Andando Nella direzione giusta Perfetto Sono molto felice di questa cosa No Dark Legend Perché Nei giochi Più pesanti O peggio ottimizzati In questo caso Ehm Non riesco a tenere 1080 alla live Perché è ottimizzato così male Che Sfarfallerebbe Andrebbe un po' male 900p È Una via di mezzo Tra il 720 E il 1080 Quindi è comunque meglio Di un 720 Si vede ottimo I frammenti rispetto Alla qualità del gioco Io vado Adesso sto andando A 120fps Aspetta Di qua devo andare Sì Ah questa è una stradina Non me ne ero accorto Di sta stradina Eh L'ho persa Dai cavallo di merda Spingi Olè Oddio si ruba Scusate ragazzi Io Sono qui che vado in giro Eh Però scusate Se me li piazzano così O Che posso dire Padranza Insufficiente Mannaggia Abitante del villaggio Ok Non è vero Non è vero No 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 Ah 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 Ma Oddio Ah Non andrai a dire nulla Non andrai a dire nulla Tu Ecco fatto Ragazzi Non andrai a dire nulla Sto tizio qua Mi dispiace per loro C'è un salame Che meraviglia ragazzi Che meraviglia Che bello Ecco qua Eh sì Corriva un sacco Ok Allora In teoria In teoria Non dovrebbe succedermi nulla Perché Ho ucciso Gli unici testimoni Che c'erano Quindi Voglio dire Ho ucciso Gli unici testimoni Che c'erano Non vedo assolutamente nulla Ma vedo un bel Grimaldello facile E se c'è un Grimaldello Facile Noi Scassiniamo Subito Immediatamente Bella T4 Bella T4 Erbe e piante Ovviamente un libro che compriamo per vendere Perché noi abbiamo fatto l'ITIS Di certo non lo leggiamo Anche perché non sappiamo leggere Scherzi a parte Grazie T4 E si prosegue Dunque Dobbiamo interrogare i carbonai Che li avevamo già interrogati Degli altri carbonai però Questi sono nuovi Ovviamente li interroghiamo E poi li uccidiamo Questo ovviamente Scontato Manco a dirlo Hai scoperto Tomba Ah se avessi la palla Potrei Uscire il corpo Vabbè buona sapersi Allora adesso bisogna trovare i carbonai Perché io In teoria sono nel posto preciso Giusto Giusto Vagassi Esatto Esatto Adesso Dove saranno Ma mi dite per quale Per quello scremotivo Dovrebbe esserci missioni in cui Io devo cercare la gente Con cui parlare Cioè ma che senso ha Cosa aggiunge al gioco Qual è la parte divertente Ed entusiasmante Del cercare persone Qua in giro Oh là Ok Il cavallo è mio È Pebbles È quello che ti danno Con le missioni Ok Buongiorno signori Andrea Con quelli che uccido no Però con altri si Oh Nuovo livello Giunto in dialogo Ottimo Salve Buongiorno Tu 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 Poi andiamo a parlare Anche con questo Eeeh Quattro sono Ok Sto cercando ginger Allora calma Ragazzi Ho assistito Un amicidio Se lo trovo qui La pagherete Cara È successo Vedi Fidelo per sbaglio Come lui Ok Con lui Non ci ho ancora Parlato però Interroghi Carbonai Ancora Altri carbonai Devo interrogare Ok Allora Ah qua si scassino Ok Ho un'idea Allora visto che qua Non mi danno problemi Se dormo Io adesso Dormo qua Faccio un'oretta di sonno Vi spiegate sto gioco Gioco medievale Dove tu devi rubare E uccidere le persone Eh Ora Adesso dunque Redboom Italy Grazie mille Del prime E benvenuto Nella Felix Army Car Benvenuto Redboom Redboom Questo lo dico a te Ok Nulla di interessante Vedi Allora Succedo questo Mi vede quell'altro In teoria no Scopriamolo subito Lollino E questo è per te Signor Lollino Grazie mille Del sub E benvenuto C'è qualcun altro Che vuole subare E beccarsi il suo omicidio Dedicato Per caso Se qualcuno volesse Qualcun altro Dai c'ho già il tizio davanti Eh Ho già il tizio davanti Chi lo vuole Chi vuole il prossimo Chi se la giudica Nessuno Nessuno Chi se ne frega L'ammazziamo lo stesso Ecco qua Grande Redboom Ne sono molto felice Ok Eh Funimman Ma non sono lo stesso gioco Non capisco Aspetta Vediamo Guardate che vede il cadavere Eh però non vede il cadavere Se non ci va Volevo che vedesse il cadavere Lì dietro No 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 E allora A qua sto giocando Ad Assassin's Creed Eccomi Perfetto Molto bene Molto bene ragazzi Molto bene Purtroppo non hanno un cazzo Purtroppo non hanno assolutamente niente Questi qua Andiamo a derubare Giusto 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 Ci ho pensato ora Andiamo immediatamente a derubare Oh Ecco qua Apriamo Ok Ezzio di Torre Non ammazza i civili Come no Ma io non ho detto di essere Ezzio di Torre Allora Qua pure si dorme Ok qua Altro Grimaldello Però non c'hanno veramente un cazzo Cioè neanche due euro C'hanno questi Ovviamente Qua Nulla Niente proprio Vabbè Sa che mi faccio un'altra dormita qua Non li ho trovati gli uccisi Hai ragione dell'aquila Non puoi dormire più lunghi così Allora non dormo piuttosto Perché non voglio andare in giro col buio Pebbles Vieni qua Cavallo di merda Che non sei altro Vieni qua Oh La linea metà schermo Che taglia la roba Ce l'ho solo io Boh Hai un problema col G-Sync Mi sa Lo capisco Capita anche me Però non ce l'ho Non te lo posso dire Oppala Ok Adesso dobbiamo interrogarne degli altri ragazzi Sapete cosa vuol dire questo? Come sono spessi c'è spugli in questo gioco Guarda Ah guarda Vabbè Sapete cosa vuol dire questo? Ci saranno altre vittime Ci saranno altre vittime tra poco Porca puttana Io voglio arrivare al punto in cui Non esisterà più nessuno in questo gioco Ecco sapete cosa? Devo Devo imparare Devo imparare Devo imparare a scassinare le strature molto difficili E entrare di notte nelle caserne E ammazzare tutte le guardie Assolutamente Devo farlo Questo sarà il mio prossimo obiettivo Nella vita di Kingdom Come Devo arrivare al punto Di poter ammazzare tutte le guardie Nascosta Ma il cavallo si fa male Se va giù da qui No È resistentissimo Qua però sarà difficile Far strage ragazzi Qua sarà veramente difficile Fare strage Ok Dov'è Ginger? Figlio di puttana Passati dei banditi A chiedere prima di me Figlio di puttana Ok Sono già morti Uccidi i banditi Non l'ho già ucciso Ma io li ho uccisi i banditi ragazzi Ma io li avevo uccisi Vi ricordate? Io so qualcosa Cosa sai figlio di puttana Intimidiamo? Intimidiamo Ok Reputazione ridotta Figlio di puttana Dammi le notizie che voi Non ho capito cosa mi ha detto Però va bene Ah purtroppo uccidere sta gente Sarà pressoché impossibile Quindi Gemello carbonaio Ok Obiettivo avviato Uccidi i banditi I banditi sono morti Oh stavolta Successo Ok stavolta Ho avuto successo Avevo letto e scoperto Carbonar Ok aspettate Qua c'è la scassinar Il problema ragazzi È che sarà impossibile Ucciderli tutti questi Sarà impossibile Ucciderli tutti Quindi Cioè non c'è nessun isolato L'unica cosa che mi viene in mente È dormire fino a notte Però Beh come fare? C'è qualcos'altro A scassinare per caso? No Cazzo Mi dispiace Lasciargli vivi Però Eh Ma Coniglio di merda Aaaaa Sì ma comunque È scriptatissimo Ragazzi Sto coniglio di merda È scriptatissimo Eh Fitoidra Mi sa che non ci vado In un peggio Con in questo titolo Così a occhio Raga come faccio Ad ucciderli? Fatemi pensare Purtroppo è un campo aperto Si vedono tutti Ehi Ehi Che stai spiegando? Sì Dormi Ecco qua Ok È già un passo avanti Oddio Gesù Cristo Gesù Cristo Aspettate Ecco Crack Lo so che non è morto Ragazzi Aspetta Nettiamola a dormire Oh E qui sembra che stia dormendo Il bracino Ecco Aspetta un po' C'è È un po' storto Eh però Vabbè dai Va bene così Perfetto È quello che intendevo Allora come faccio adesso A prenderne altri Perché Non è facile Non è facile Perché come potete vedere Sono tutti Diciamo in linea di tiro Se io Stordisco questo Colo là mi vede Questi qua Lasciano stare Questo Per poterlo uccidere Dovrebbe stare tipo Qui Mentre gli altri Non lo vedono Non potrei farcela Ok Comunque Questo personaggio È molto scriptato Adesso In teoria dovrebbe Tra un po' Arrivare qui Allora c'è un tizio Che non guarda Questo pure non guarda Eh vedete Lui è proprio scriptato Ok Questo tizio Sta fermo Immobile lì Adesso Vediamo se va bene Tutto Ce l'ho fatta davvero Ce l'ho fatta davvero Ecco qua Radam Buonanotte No Radam Non hai capito Devi metterti un po' Un po' Vabbè Tanto Intanto Radam Fammi vedere che cazzo C'hai Non hai niente Radam Molto male Muori Ok Adesso Aspetta Andiamo A dormire anche Quest'altro ragazzo Radam Per favore Non fare storie Mettiti a dormire Radam Fai il bravo Come il tuo Il tuo compagno Bran Allora Radam Vieni qua Allora un attimo La casetta degli abusi Radam Oh Qua Radam Hai sbagliato La posizione nel letto Ok Ok Non sei proprio composto Ma Ok Bene Ottimo Ah C'è un tizio che sta arrivando Molto male Ma gli altri due Non sono annati Ah però Molta sabbia oggi C'è guarda lì Quanta sabbia Ok Ok Ecco qua Sembra Don Marco Nei giorni migliori Però Fecca che diminuisce La povertà del mondo Oh Sapete quanti posti di Di lavoro liberi ci saranno Da domani C'è Quello ve la lavanga In mezzo al busto Ecco qua Prego Oh Eh no eh Io però T'avevo messo tutto bene Ma io guarda Ecco Così impari Allora Carbonaio Cosa c'hai? Nulla C'ha le chiavi dei bauli Ma capirai A che mi servono Allora Carbonaio Vieni qua Per favore Bravo Adesso Con calma Ecco qua Ok Vai Accettabile Accettabile Era molto stanco Quindi non ha badato A come si è posizionato Perfetto Perfetto Adesso Questo qua Ormai È Scoperto Cioè Non è più coperto Quindi No ho fatto rilascio Ho sbagliato tasto Vieni Vieni Sh Ok Vai Non ci vedrà nessuno Vieni un po' Andiamo nella capannina Laggiù Perfetto Cambio di Cambio generazionale Forzato Ecco Nessuno ci vede Giustamente E lo mettiamo Qua Il gemello Carbonaio Ecco fatto Rilascia Eh no Però Che palle Crick Olè Lui pure Non è un cazzo Ovviamente Allora Ce la fai Da andare sul letto Dai Da bravo Dai Accuccia Accuccia Allora Aspetta Ciccani Metterlo Vendia Senza naturale Ok Buono Sì Don Marco Vieni qui Il fatto che ti sta impegnando In posizionali Viene nel letto Una volta Morti Mi fa credere In qualche disturbo No Non è così Allora Allora Easy Perfetto Sono anche asserito di livello Bene Andiamo Torniamo nella capanna Sarai un ottimo Sarai un ottimo serial killer Nella realtà Ragazzi Non trovate anche voi Sarai un ottimo serial killer Ecco qua Vai a dormire con Bren Ok Guardate ragazzi come si vogliono bene Aspettate un attimo Guardate ragazzi come stanno bene insieme Sti due Va andiamo a prendere l'altro È vero Davide Forse hai ragione Questo è il portavoce Dei Carbonai Venghi Venghi anche lei Pebbles Tu aspetta lì Mi raccomando Beh eternal Sono silenziate Dai E niente Fitoidra E niente Ecco qua Prego Ok Insieme a Radam Perfetto Oh Come state bene insieme ragazzi Adesso è tempo di dormire Dormiamo ragazzi Con i nostri nuovi amichetti Allora Carbonaio Vieni un attimo qua Ti do appoggiare col tuo amico Con il tuo gemmello Carbonaio Ecco fatto Perfetto The human The human Centified Ok Sembra che non ci sia più nessuno Adesso posso dormire anch'io con i miei nuovi amichetti Ok Fino alle 2 Non puoi dormire più di così Perché no Non capisco Vabbè Dormiamo fino alle 2 Sì immagino darklight 120 Specialmente dal fatto che mi segui da diversi mesi Una nuova posizione Di Kamasutra è stata scoperta Ok Oggi la testa di svolglierà intorno a me Ancora Ma 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 che cazzo Ma dove sono andati Ci sono gli zombie Oh Il pentolone lì che dà i segnali di fumo Si è andati in paradiso Ho già dormito troppo a lungo Minchia non vedo un cazzo Allora aspetteremo Insomma in un modo nell'altro qua Il modo nell'altro al tempo lo facciamo passare Doposera sono resuscitati San Gennaro ha fatto un altro miracolo Ragazzi ma non ha senso Scusatemi Ok Oh adesso posso dormire un'oretta Giusto per recuperare Ecco qua Niente sono risorti Buona a sapersi Tic Buongiorno ragazzi Vabbè Sono completamente spariti Mi fa molto piacere saperlo Direi che mangio un po' dalla pentola Niente ragazzi Sono spariti Buona a sapersi Vabbè Oddio Oddio ragazzi C'è il sole nella pozzanghera C'è il sole nella pozzanghera Altro che raytracing Ma raytracing chi è? Ma raytracing chi è? Allora al di là del fatto che siamo saliti di livello un po' ovunque Cosa abbiamo? Scatenato Quando la tonneria si riduce al minimo diventa una fuori recupero di vigore Oh è interessante Recupero di vigore con la velocità incrementata Questo mi ispira sapete Andrenalina Dopo che ho uscito il primo avversario ottengo bonus all'attacco e recupero di vigore Interessante Poi cosa abbiamo qua? Spada Eh qua sono tutte le combo ragazzi che tanto non imparerò mai Quindi l'uno vale l'altro per quanto mi riguarda E qua furtività Che ormai ragazzi la furtività Cioè amante dei cani Uomo della pioggia Cioè non so che dire tanto Proviamo questo dai Tanto prima o poi le faremo tutte Ormai furtività Livello 15 Cioè voglio dire Pattumire buona come skill Una meraviglia Ok la domanda è cosa devo fare adesso? Uccidi i banditi Oh Gesù Vabbè già che ho ucciso il carbonaio è un'ottima cosa È già un passo avanti Adesso sono stati i banditi a rubarli Allora Dobbiamo cercare i banditi Scusate signori banditi Siete qui da qualche parte per caso Purtroppo non ho la perdonanza per usare l'arco Io ho buttato il mio pensano che tutti gli archi fossero uguali Invece non è così Aspetta però Ho diverse cose dovrei fare qua Uccidi i banditi Trova i ginger Ok Vabbè noi uccidiamo i banditi per adesso Già che siamo qua Voglio dire Sì ma Che cazzo sono i banditi? Ah non ero nella zona dei banditi Ok vabbè adesso ci siamo Ma ora sai leggere? No Se apre un libro non mi fa leggere bene le parole Tipo mi confonde tutte le parole a cazzo Ma questo? Hai scoperto incidente Sei caduto? Pugnale Eh Sì ok che l'ho scoperto ma Cosa c'ho guadagnato? Ma ce l'ha nell'orecchio? Ma chi è così brutale da inficcare un pugnale nell'orecchio? Boh Ok Ok Va bene Eh È caduto su un pagnale che sfiga Ah ecco cosa intende per incidente Ok Ali Red Bentornato Ali Red Nella Felix Army E siamo a dieci mesi Dieci mesi di risate e di cringiate Grazie di tutto Grazie mille Obiettivo completato Ma non ho fatto nulla Vinci il torneo Ma Sono Ma dove Ma Aspetta Ah ok Grazie ancora Allered Bentornato Ben tornatone a Felix Army Alle banditi Sono qua da qualche parte A parte il fatto che C'è una fisica stranissima Per quanto riguarda Per quanto riguarda Il cavallo e tutto ciò che Ne consegue però No No Non sono qua i banditi Sono qua Scusate signori banditi Potete dirmi dove siete Gentilmente Perché non riesco a passare Nei cespugli Che bello Ste emissioni In cui devi cercare I nemici È proprio bello Piove Non c'è una nuvola E sta diluviando Bellissimo Bellissimo Meraviglioso Eh lo so che i vocali Sono belli Sicuramente dovrei rimetterli Se li tenessi bassi bassi Però Non avrebbe molto senso I banditi Anche loro Saranno inciampati Sui pugnali Questo è un indizio Una carobana ribaltata Allora sono andati di qua Banditi Dove sei No ma sono tornato Dove ero prima Ma che palle Ma che palle Sono tornato Dove ero prima Logo degli zombie Allora qua Abbiamo capito Che non ci sono Direi Non capisco Ma dove Cazzo sono Sti banditi Madonna ragazzi Ma dove potranno essere Tipo qui Questo qua è l'accampamento Saranno qui dai Oppure qui Andiamo prima Andiamo a vedere qua Comunque Faticoso Mi dispiace Ragazzi E tu non sentire Relacchi Le pe... Ah Eh Signori banditi Buongiorno Salve Voi siete i banditi Per caso Mi sono fatti Oh Ok Che coincidenza Anch'io lo sto cercando Eh sì In tal caso Zà Ok Oh Ne sarei molto interessato Gentil signori Ma come si fa a combattere da cavallo Comunque sono veramente dei gentili uomini Banditi del giorno d'oggi Cioè Ai miei tempi Cosa? Cioè Ma han tirato giù da cavallo Ma han rotto l'osso del collo What the fuck Morto lo schia... Cioè Se ti buttano giù da cavallo Muori Ti rompo l'osso del collo Sono tutti vivi ancora Ma che cazzo Ma almeno che Che missioni ho? Aspetta Fammi un attimo vedere Oh Gesù Oh Gesù No Non ho voglia di ucciderli tutti di nuovo Però Cazzo Uccidi i banditi Vabbè A voi penserò dopo Vabbè Almeno sappiamo dove sono i banditi adesso Colpo della strega Eh sì Ok dai Ah Dove cazzo erano? Che non mi ricordo più però Calma Che poi ho dormito Perché non mi ha salvato Non lo so Erano qua Ok Vedi che erano risorti No no Qua mi ha fatto tornare prima Non so per qual motivo Perché se uno dorme In teoria salva Però vabbè Allora Se il mio cavallo Non si incastra In teoria sono qui Giusto? Hai scoperto Nido Ok Signori banditi Eh Micchia Così lontano E non è andato Solta però dal cavallo Ci scendiamo subito Oddio Aspetta Dove cazzo sono adesso? Ok ok Erano di qua Se non ricordo male No aspetta Dove cazzo sta? Minchia Non mi ricordo più Erano qua Dal ponte Sì No è di qua che devo andare No? Io mi ricordo fosse qui Avevo appena superato il ponte Sì L'erano qua le avevo trovati Non è il punto A No Non sono sicuro che stanno fissi di qua Però E probabilmente si muovono per la mappa Però vedi Ti dice che possono essere Possono essere qua Questa è la mappa dove Dove devo cercarli Non è il punto A Capito Io ho visto il passaggio di qua Suppongo che stessero arrivando da qui Giusto Madonna che palle ste missioni qua Mamma mia Non ci credo Non sono qui Fantal Da 13 mesi Bentornato Da Felix Armi caro Bentornato Oddio 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 Eh sì Mori Trovarli Niente E chi le ritrova più Questi ragazzi Qua però c'è un accampamento Accampamento Davvero orus Oddio un arco Buono E' un arco che posso effettivamente usare Non come il mio Come sono messo sazietà 74 Perché l'arco Perché l'arco cumano è troppo difficile da maneggiare in serie 10 di forza Quindi questo non fa danno eh però almeno lo posso usare Oh Gesù Ah E' Fitoidra Non lo so No non mi pare Perché la zona era ancora inesplorata Esamina il cavallo Cosa devo esaminare La sua velocità Tanto è il mio e basta Ciao Decree Niente Si va a fare un giretto ragazzi Andiamo a cercarli Che bello sapere che non sono in un luogo fisso Ma può variare Molto bello e molto divertente Ah qua c'è l'altro accampamento Ok Allora sono convinto che siamo per forza in una strada Ok non penso siano in mezzo alle frasche a sto punto Prima li abbiamo beccati sulla stradina Saranno sulla stradina No quello è un ceppo Boh Ciao Ungurio Cerca persone simulator minchia davvero Lascia stare guarda Lascia stare Ma poi l'area è grande Non è che dici Un'area piccolina Cioè Ti perlustrare di Obon Una parte di mappa gigante Qua c'è un barracchino C'è assolutamente niente Deflagrix Grazie mille del Prime Bello Benvenuto nella FelixArm Benvenuto Benvenuto Che poi comunque combattere da cavallo Non ti dà nessun vantaggio Io pensavo da sopra no Tiri Le spadate Invece no Parte magari con l'arco Con la spada Tanto vale a non farlo Mamma mia Ma dove siamo Ci ho fatto tutto il giro L'unica cosa che mi rimane è andare qua Qua c'è un altro accampamento Voglio provare ad andare in quest'altro accampamento Magari sono lì Accampamento nel mezzo della foresta Ma prima stavano passeggiando Scusami Prima stavano passeggiando Qua dovrò No Qua ero Dove ero prima Potrebbero essere qui Boh Non capisco Cioè non erano fissi Prima li abbiamo beccati In una stradina Del cazzo Dopo il ponticello Sono tornato lì adesso Non ci stanno più Ma allora Ma allora Che poi conviene seguire le stradine Perché se Cioè non Non penso di beccare Mai qua in mezzo Boh Ce ne saranno di più È la madonna Vabbè Nulla Non so di cosa tu stia parlando Ecco qua Comunque Questo è l'accampamento Accampamento Eh Sono i due di prima Sì Io non so davvero Cosa sia successo Oddio Questo è forte Allora calma Che era un po' Che non gioco Non mi ricordo minimamente Come si fa Ding Eh Come ha fatto Madonna È fortissimo Sto tizio Oh io sto parlando Eh Non vorrei dire Eh Olè Ok Ho parato Sì Oh ma Mi sta Oh ma Che cazzo Figlio di puttana Sì vabbè Ma mi sta schivando Tutti i colpi Questo Ma che cazzo Madonna Madonna santa Che schifo Che schifo Che schifo Sto sistema di combattimento Vi giuro Fa pena Fa pietà Fa pietà Ragazzi Ragazzi Oh 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 Zac Ma io non sto capendo Veramente Aspetta che sto Sanguinando Ah Eh Non posso Usare nulla Sto combattendo Boh Olè E tanti saluti Figlio di puttana Benda Benda Così non sanguiniamo più Eeeh Buono Allora Soldi Infuso Allora Fammi vedere Sono delle cose Che sono troppo Distrutte Vediamo un attimo Come sono questi Rispetto ai pezzi D'armatura Che abbiamo Comunque Raga Non sto scherzando È veramente un parto Fare i combattimenti In sto gioco Niente Questo è un cesso Buttiamolo Cesso e cesso Via Tenti pure la tua Merda Guarda Allora Oh È tempo di Scassinare Di rubare Molto bene Molto bene Ecco qua Grande Thomas Ne sono molto felice Per il tuo amico Cazzo di Daini Di merda Via qua Va bene Va bene Va bene Scusa Allora Cioè L'ha trapassato Allora vabbè Tranquillo Non importa Non volevo veramente Uccidere Arnesia Corazzaio Anello Anello 130 di danno Interessante Interessante Zucchetto Ok Vediamo un attimo Il zucchetto che dice È un ologramma Allora scusami Non lo faccio più Eeeh Al posto di sta merda Ma è che distrutta È ok però Vabbè Non vale neanche un cazzo Notato adesso Il zucchetto Mi fa essere più silenzioso Ma abbiamo constatato Che non serve a niente Essere più silenzioso Al massimo ti togli tutto Se devi rubare A farmi un attimo Vedersi Arnesia Corazzaio Posso riparare Sta roba qua Arnesia Corazzaio Da sarto Invece cosa posso riparare Eh no Questa è troppo danneggiata Vabbè Vabbè Non importa Quasi quasi Uso un po' di arnesi Da corazzaio Così mi faccio Un po' di livelli In teoria Non lo so Ecco In realtà Ne è successo un cazzo Vabbè Allora Tributi Ah qua abbiamo Quelli di primo Ok abbiamo Andrenalina Mi ricordo Riprendiamola Qua spada L'uno vale l'altro Tanto non Non mi le ricordo Manute Ah no Siamo saliti di livello Allora Buono Allora Fraganza Quando indossi abiti appena lavati Più uno ha il carisma Per un giorno Se indossi stivali Riparati personalmente Lo scatto Consuma al 20% Di euro in meno Però Riparati personalmente Cioè Cosa vuol dire Che devo rompere Di ripararli Poi basta Non capisco Non capisco Vabbè Prendiamo fragranza Carisma Sappiamo che ci amano tutti in città No quindi Perché no Ok Quindi a questo punto Io sa che faccio una dormita Io ho Dei malus strani Non capisco Giocatore Effetti Ah testa ferito Ok non capivo Reputazione Oh Meno 17 Meno 29 Ragazzi Ci odian tutti di nuovo Siete felici? Siete felici che ci odiano tutti di nuovo? Dite la verità Siete felici Lo so Ma davvero Non posso Rene più di 6 ore Scusa Boh Chissà perché Non capisco Io sono A meno 104 Ah capito Paolo Però non so quanto dura Grande Tiberius Paolo Morghe Tu sei un'altra persona Che deve entrare Nel gruppo privato Nel gruppo privato Dei VIP Madonna sto cazzo Di torneo qua Allora Qua devo aspettare Fino alle 5 Esatto Daniele Più bug E meno draghi Cioè più bug E nessun drago E nessuna magia Ok Doviamo un'altra retta Così Arriviamo preciso Preciso Perfetto Grande Ricky Saucer Ne sono molto felice E vabbè Quel gruppo Telegram Di soli VIP Sarà Veramente Siete come la camera Dei lords Dovreste essere Onorati Di questa cosa Oh eccoti Pebbles Allora Vediamo un po' Come si è messi Con la missione Abbiamo ucciso Questi qua Informa i carbonai Dell'eliminazione Ah Ma io mi chiedo Una cosa Come avrei fatto A Informare i carbonai Dell'eliminazione Dei banditi Se Se li avessi uccisi Come ho fatto prima Non ha molto senso Questa cosa Prova bene Semplice Fievic Non l'avresti fatto Ok Sì Antonio Per diventare VIP Attualmente La quota è di 30 Sabre galati 30 Sabre galati Che una volta arrivati A 60 VIP Ne mancano 4 Ancora 4 poste A 60 VIP Diventeranno 35 Sabre galati Ok Ok Meno male che In un certo senso Mi ha fatto ripartire Ok Sto cercando Ginger Ma come Sotto Li ho uccisi davvero Però eh Quindi non ho ancora Scassinato Salve Signor Gemello D'accordo Ragazzi No 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 Fammi sapere Uccidi banditi Li ho già uccise Ok Reputazione no Bella animazione Mi piace Mi piace parecchio Ottima animazione Devo dire Perfetto Due bende Ce le prendiamo Dai Cappuccio grigio Oddio Potrebbe esserci Per la notte Non lo so Tu cos'hai Un cazzo Crick Ecco qua Wi-Fi Qui prende No Mi ha visto Oddio 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 Quanto è lento No È tempo di mettere Tutte e tre vie Ragazzi Non ho voglia Di perdere Di nuovo Tutto il tempo Dove sono Gli altri Oh cazzo Raga Mi sa che mi hanno Scoperto Non c'è più Nessuno Ah no Dio Qua c'è un tizio Gli altri Non so Dove siano Ma che devo fare Nella missione Ah Devo trovare Il famoso Ginger Adesso Oddio Eccoli Uno alla volta Uno alla volta Ragazzi Perché questo è nudo Buonanotte Allora È tempo di ammazzarli tutti Come sempre ormai Non dica nulla Non dica nulla Ok Comunque non c'hanno un cazzo Lui invece No anche lui È di fortività Ragazzi Oh per il livello Mi ricorda Non dica nulla Non dica nulla Ok Non ha nulla Di nero Ci servono i vestiti Sergi Ragazzi Oh Figlio di puttana Stavolta T'ho preso Ok Nuovo livello In fortività Giusto Assolutamente Sì Me lo ricordavo Mettiamo questo Gli attacchi da dietro Fanno più male Allora Adesso Dove dobbiamo andare Ah è qua di fianco Sto cazzo di ginger Che lo cerchiamo Ragazzi All'inizio Della missione Dove cazzo sei ginger È di qua Comunque ragazzi L'abbiamo uccisi tutti Sono molto fiero Di questa cosa È al nostro obiettivo Fin dall'inizio E basta Dunque Vediamo un po' Chi cazzo è sto ginger Visto che ormai È dalla scorsa live Che lo cerchiamo Ho un altro accampamento Ginger Ginger dove sei? Ok Cosa stai facendo lì? Vai quindi Chi cazzo è ginger Voglio vedere Perché sei scappato E sono i tuoi compari E perché hai sceso Quel bandito Ok Ecco Devo rifargli le domande Una alla volta Dimmi che è successo Non rompere il cazzo Una lunga storia Eh non rompere il cazzo Parla Dimmi Ta 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 Ok Ma Eeeh Dimmi Ok Basta Miema comunque Letteralmente qua è Dialogo simulator A sto gioco Addio ginger Ah Non me lo fa uccidere Eppure c'è il tastino Non posso anche Scassinare Colui di fianco Spero di potermi Vendicare Allora No Madonna Devo tornare qua Ok Aspetta Dov'è il cavallo? Dov'è cazzo è il cavallo Di merda qua? Qua dietro Stava prima Oh qua Eh che cazzo Pegos di merda qua Pegos di merda La missione finita Finnerà a puersi Ginger Assolutamente Poco ma sicuro Vai Non mi fa fare Oh Allora Oh Gesù Che giro Ah Buonanotte Oddio Black Sea Missy Ormai non è più povero Come prima Non è più l'Eternel Che conoscevamo Mi dispiace Oh Oppala Oppala Nessuno guarda Da cavallo è più difficile Comunque puntare Facciamo così Eeeh Eeeh Ecco Vabbè 360 No Scope Vai Nella gamba L'ho presa No Comunque è impossibile Ragazzi Hittare Hittare i bersagli Movimento In sto gioco Qua l'arco è veramente Pietoso Ok Eccoci Ma scusate Se Hitto i cavalli Dei 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 Nobili Qua Mi dicono qualcosa Via Siete liberi Ragazzi Andate dove volete Addio Che è successo Chi c'è Oh ma Ma scusami Chi ti ha detto Chi ti ha detto Che puoi fare Quel che ti pare No Allora Ecco qua Il tizio è dietro No Scappa 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 Allora Aspetta Che cazzo Avevo prima Addosso Effetti Oh Nulla di che Ok Ok Camale ulti Occultato La finanza Anche la finanza Non c'è Un cazzo Affanculo Esamina cavallo Che schifo Sto cavallo So io cosa fare I cavalli come te Ok Interessante E la reputazione Ragazzi dove è andata Arco Da caccia Forza minima 8 Oddio Questo ne sa che posso usarlo Buone ste frecce qua Torcia Vanga Vanga Spada Borghese No che schifo Oh belle ste armi qua Furfante Chi mi ha visto Chi è stato Stavolta Beh Paga Si paga e via Questo posso metterlo Forza Eh ho 10 di forza Adesso Però mi sa che è un caso Nel dubbio Larco la caccia Di Allora lo tengo Vai questo lo butto Invece Via Va bene Chi mi ha scoperto Dai Ditemelo Tanto ormai Vai La 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 Non c'è nessuno Nessuno c'è Un guardiano Mi sa che il tuo lavoro Non lo svolgi molto bene Ecco qua Gli ho allimato il pelo Esatto Eh una mazza Una mazza Danni per No Mentre un cazzo Ok Vabbè Toccherà pagare una multa Che vi devo dire Ti fa male la schiena A me no Però te probabilmente Farà tanto male Adesso Ecco qua C'è qualcuno Che corre verso di me Presto Ruba i soldi E scappa Presto Qualcuno si è accorto Di cadavere ragazzi Qualcuno se ne è accorto Sì Sì Vincent Prima di un po' Questo minecraft Sì è un gioco Che torna ogni tot Però non adesso Vabbè Eccomi come se nulla fosse Buongiorno ragazzi Che bello Ho fatto le peggio cose Ma Siamo puliti Come il culetto Di un bambino Chiudi 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 Gli ha alleviato il dolore Avevi mal di schiena A posto Ok Ah però No se razzi Che non posso Se razzi Che è troppo importante Fugnale Miglior Rimedi Assoluto Proprio Con quello Si risolverò Tutti i mali Meglio del buscopan Una meraviglia Calzare i borghesi Nobile rossa Questo cos'è? Camicia di lusso Sì di lusso Poi costa Un cazzo Dei soldi Lusbergo Diamo un po' Sta merda qua Se è buono Oppure no Oh questo è meglio Di quello che ho io Mi piace questa cosa Quello che ho io Invece Era cosa? Non lo so Questo mi dà Molta resistenza Faccio tanto rumore Però Ok Mi aumenta anche il carisma Io direi che lo prendo Molto volentieri Questo è meglio di Di questo Ok E ok Buono Ho trovato un sacco Di roba interessante Cappuccio Cappuccio grigio Com'è? No 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 Via sto cesso Camicia di lusso È un cesso Però vedo che Questo qua di Rumore 14 Poi io tengo Poi il massimo Ah no Devo buttarla Non ho più spazio Stavo scherzando Via questo Ok Molto bene Oh Vedo c'è un sacco Di roba Da scassinare Qua mi fa molto Molto piacere Ecco fatto Vediamo un po' Cosa c'è qui Interessante I vanbraccio Uguali identici A quelle che ho Adesso Un altro Di questi Ok no Bene Colpo della strega Aspetta Che ha Qualche Zingaro Ah ok Queste sono le stalle Esamina cavallo Che schifo Ah no Ah no È Pebbles Che fa schifo Questo cavallo È molto meglio Pebbles Fa cagare Questi invece Eeeh Eeeh C'è un cavallo Che sta scappando Piatelo Frontale Fra due cavalli Va bene Ehm Ok No mi arrendo Eeeh Lo so Accetta il car Cosa accetta il carcere No Non impicciarti Figlio di puttana Non ha funzionato Scappa Aiuto Tattara 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 Via Brum Brum Non riesco a uscire Aspetta No che poi mi putta giù Mi rompo l'osso del collo Via Tattara 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 Che non passa Che non passa dalla città Ah sto combattendo Vabbè Posso andare anche a piedi Allora Accetterò il carcere A parte la reputazione è calata Ancora ok Accetterò il carcere Ma prima devo posare tutta l'orba rubata che ho Così mi aumenta Io ho tutta la reputazione Molto bene Eh lo so che esetto la reputazione Ah mi conviene comunque andare così Troppo carico per Ma cosa Cosa ho Madonna santa Un chilo di troppo Bisogna mettersi a dieta Ecco all'improvviso non ho più la forza Che avevo prima Vabbè E che cazzo ho che mi pesa così tanto Non capisco Via sto cesso Ecco Molto bene No Non posso fare questi itinerari Andiamo un po' più in qua Non posso passare dalla città Altrimenti siamo da punta a capo Scusami Vai da qua Andiamo un po' Non voglio che me lo fai fare dalla città Mannaggia Allora Se ando fino a qua Vediamo un po' Sperare di non beccare guardie Cumani Cumicumani Cumicumani No me fai un cazzo Evito evito Ok Ok Perfetto Ma il pigione poi fai l'evasione Non sa mica su Skyrim Aspettiamo il caricamento Ok Ci siamo Eh siamo proprio da carcere Guardate il simbolino In alto Di fianco alla bussola Oddio Porca Porca Che danni ho preso Oh Gesù Cristo No non posso morire adesso No 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 Ma ho sto cavallo di merda Fammi scendere Non mi fa scendere Ok Oh Gesù Cristo Dove mi sono incastrato Viaggio veloce mi salva Eh no Francesco Grazie mille Caro del sub È bentornato Nella Felix Army Sono un po' Un po' Incastrato eh Devo dire Ok Aia Ce la faccio da qui Mi che sto letteralmente schiantando No 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 Ok Devo andare a piedi Ho capito Dai Grazie Ste casa Benvenuto Caro nella Felix Army Grazie il tuo Prime Gentilissimo Tocca andare a scarpe Raga non sarebbe fiera Di quello che stai facendo Vero cosa No questo mi fa Faggire da dietro Vabbè Vado a piedi Ho capito Ah Minchia devo andare là sotto Porca puttana Vai Come i vecchi tempi Su scari Io vorrei vedere in terza persona Sta scena Giuro Ce la faccio ad andare da qui O mi fa fare il giro da dietro No Il giro da dietro per forza Altrimenti non è felice Ti puoi curare Sì però Allora Potrei Ma non voglio sprecare il liquore Anche perché poi mi ubriaco Da un casino L'unico modo È andare a dormire Forfante audace Bene Ne sono molto felice Però Devo andare dal mio amico Mugnaio Da qua No mi fa fare il giro da dietro È una cosa allucinante Ciao codice Questa bella gente qua Ah quello è il bugnaio Ok non riuscivo a riconoscere la distanza Perché non si caricano i suoi vestiti Un'altra bella feature del gioco Eccolo qua Eccolo qua Magicamente si caricano i vestiti Allora Andiamo alla merce rubata Dunque Cos'ho derubato qua Ho due di questi Uno di questo E basta Perché sono cazzo carico come un mulo Vorrei sapere È del cibo che ho preso Sono carichissimo Sarà tutta l'armatura che ho Sì Ecco è questa Ok Eh si è tutta l'armatura qua Che pesa un bot Eh o però Mi serve È un'armatura Niente male Perfetto Adesso andiamo a dormire Staremmi in un villaggio Vai tranquillo Quello poco mi assicuro Però adesso dobbiamo fare un paio di roba Innanzitutto Ah qua c'è la mia C'è la mia roba con cui Rubare la notte Allora Devo posare tutte le cose rubate Ok Ho altro rubato Non mi sembra Ok Allora Rubiamo e salviamo Teresa Ok Fino a mezzanotte Oddio raga Andiamo a rubare Eh no Però se rubiamo con le guardie Appena ci vedono È un casino Dovrei ammazzare qualche guardie E poi arrendermi Non lo so Vai a ficcare con la tipa dei bagni Non adesso Non adesso Allora è meglio che mi faccia una scorpacciata adesso Perché in prigione Mi sa che per un po' non magno E dai a sto cazzo di torneo Tanto perdo Sono fortissimi quelli che giocano lì il torneo Teresa Oddio Oddio Teresa Allora Che poi Scusate una cosa Abilità Sono già a livello 10 Scassinamento Andiamo a farci Chiudere in carcere Aspetta Fai in prima vedere Ok Sono armi dissanguate Ma non ho più nulla di rubato Apparentemente Terenas No Con lui Non è il caso Di ficcare Cioè dipende dai gusti Ok Quindi vai prima a rubare Eh lo so Perito Hai ragione anche Da quel punto di vista Però insomma È più facile se Gira per la città Senza che le guardie Ti riconoscano Ecco Quindi insomma Zio Maggiore Teresa Che gioco è? Daniele Allora aspetta Intanto devo andare in prigione Sì sono io Mi avendo Mi avendo immediatamente Hai ragione Hai ragione Io Accettro il carcere Consiglio di fortuna Non ho nulla di rubato Mi dispiace Vabbè il torneo Fai una figura Sempre migliore Di quella fatta I rivals Hai ragione Effettivamente Ho una settimana Signori Mettiamoci polleggiati Qua Buonanotte Buonanotte E tanti saluti Perché non metti La webcam da destra Perché a destra Ci sono delle statistiche Non posso coprirle Eh Paolo Oggi sono stati più Stavolta sono stati più cattivi Di solito L'altra volta erano sette giorni Stavolta un giorno in più Evidentemente L'ho fatta grossa L'ho fatta grossa Sì Buacco Domenica ci sono Però non so dirti Che ora precisamente Però sicuramente Primo pomeriggio ci sono Va bene Aspettiamo Di cosa parliamo Ragazzi Eh sì Eraclessi Ciao signor Bocelli Ci siamo quasi Come stai? Bene Bocelli Bene bene Siamo qua che Stiamo scontando La nostra prigione In modo tale Da ripulirci E aumentare La nostra reputazione Davvero Daniele Non penso funzioni così Non te lo so dire Ok Eccoci qua Perfetto Bawacco Perfetto Allora Eh si sa che gli ultimi minuti Sono sempre quelli più lunghi Ha attivato il talento Dieta corretta Ah Rimaldello molto difficile Non penso di poterlo uccidere Lui Eh vabbè Ok Possiamo andare Va bene Bawacco Va bene Ok Dunque Ah intanto Fammi dire che Ho di aver tutto Ok Sì ho Tutto Perfetto Perfetto Le armi ovviamente Adesso vado a riprendere Le quelle che avevo Vai Allora Mica sto morendo di fame Ma che Come insomma Sazietà 24 Cos'ho Ok Ecco qua Questa è una mela scadu Una mela marcia Perfetto Vedi la reputazione Giusto Giusto 16 Siamo tornati sopra lo zero Siete felici ragazzi Siamo tornati sopra lo zero Perché non è disponibile Da questa posizione Scusate Sono in città E per che cazzo Sono ubriaco Qua Non capisco Ok Per adesso Sono per lo zero Per adesso Si festeggia Azie Massacri Ok Pochettrò Sono incoglionito Perché ho sonno Ho sonno Ciao zio No non mi interessa Ciao buonanotte Dunque Fatemi pensare Ok condizione Fino alle 16 Possiamo dormire Andata Buonanotte Ubriaco Per non sentire Gli effetti Della prigione Vivo per dimenticare Mamma Sto cazzo Il torneo Veramente È una tragedia Ok L'ultimo Ragazzi È sempre Un parto Quando bisogna Aspettare In sto gioco Dunque Mangiamo Da pentola Gnam Vediamo un attimo Che cazzo C'avevo Qua Questo Questo E questo Mi sa Se non Sbaglio Esatto Esatto Qua abbiamo Una uniforme Lunga Scura Che Non è fortissima Però Non è neanche Un cesso Potremmo andare A ripararla Abbiamo del cibo C'è per andare La frutta secca Quanto mi dà Sazietà 2 4 Un po' Una merda Ma tanto In genere Non siamo mai affamati Noi Mi sono reso conto Quindi Chi se ne frega Ok Porca puttana Porca puttana Dunque Vediamo se esco A tornare là Vai E si va E non è andata La tradizione Che c'è sul balivo No Anche perché Il balivo Oddio L'abbiamo incontrato Però Non lo so Io ho ornato La tradizione Dei Sergio Che è molto più importante Assolutamente Ok Purtroppo sta facendo Serra A me piace più Girare col sole Però Chi se ne frega Sono tornato Mi sono fatto La mia prigione Ed eccomi qua Eccomi signori Olè È tempo Di festeggiare Festa Evviva Siamo usciti Di prigione Come siamo felici Buonanotte Molto bene Andiamo Che bello Antonio Pensa a te Che bello Direi Qual è il problema Wow Wow Tu 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 Ok Rapporto a Serra Zigg Ma qua chi c'è Che c'è Ho una cazzo Di lettere a B È Zora Tu 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 Abbiamo risolto Tu 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 Perfetto Un'ottima chiacchierata Ragazzi Devo dire Le vie del signore Bene Trova il bandito dei Neof a Uzziz Oh Uzziz è una nuova città signori Molto molto bene Molto bene Ok Perfetto La peggione funziona Adesso comunque tranquilli Adesso ammazzeremo tutti State tranquilli Va io direi di andare a Thalberg Visto che è più vicino a Uzziz E dopo andiamo finalmente a Uzziz A fare casino Finalmente una città nuova dove possiamo fare strage Ragazzi ma vi rendete conto Ciao Davel Beccati questa ruspa E bentornato nella Felix Army Carissimo E' un vero piacere Oh molto rapidi Questi viaggi rapidi devo dire Come stai bello 15 mesi Cacchio Ciao Pisci Perché stai snickando Dai C'è qualcuno che ci odia anche qua? Beh come minimo direi Bah guacco è un gioco medievale dove tu devi rapinare e ammazzare la gente di notte Ok non è veramente lo scopo del gioco ma è il mio scopo Buongiorno Buongiorno mi odiate per caso? No direi di no Cacchio però non ho la mia roba per snickare la notte ora che ci penso Vabbè ma tanto qua Ok Scendiamo Eh ma purtroppo Hai ragione perito però Non è qua che devo andare E quello l'ho fatto Vai fino alle 5 perfetto Mamma mia però che noia Questi timelapse qua La torcia Eh no ma non siamo Eh mo Non siamo a Era mai lì Qua non serve Non c'è l'obbligo della torcia A Rattai scusami No Rammai Rattai Ok Vabbè a sto punto ragazzi Già che ci siamo Una porticina La apriamo Ecco Però non uccideremo nessuno qua Anche perché sono in tre E troppa gente E il torneo? Lo facciamo Hai ragione Antonio Comunque qua Già avevo fatto strage Tra parentesi Quindi insomma Il mio obiettivo ragazzi E' uccidere tutte le guardie Di una città Sempre che ci sia Il numero limitato Oddio Gli ho saltato Gli sono saltati in testa Tipo questa è una guardia Porca puttana Uccidere le guardie ragazzi E' proprio acabe Uccidere le guardie ragazzi E' veramente acabe Era che le cazzi suove Ok Oh quella nera La prendo molto volentieri Le cose nere Le prendo volentieri No non è così forte Ok Martello da guerra Danni percorsa Un botto Porca puttana La mazza Guarda qua la mazza Ma quanta roba Ma c'ha mille scudi Ma cos'è Beh è la spada del nonno E questa è la spada del nonno Si uccide il pulotto E via Si eracle Padronanza insufficiente What? Aspetta ma Sei uscendo da cavallo Ma è solo a cavallo Che non riesco ad usarla Mi sa No anche Perché ho solo sette di forza Cosa è cambiato? Ah quindi non posso usare questa spada E infatti guardate quanto è lento Ok Niente ho perso la padronanza Della mia spada È tutto Ma per quale oscuro motivo? Tutto ciò che ho è diminuito Cos'ho? Cosa c'è che non va? Ah è questo Ecco cos'è È prigioniere in libertà Sì 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 è questo No professor Non funziona così Ok ok La prigionia qua Vabbè Per qualche oscuro motivo Ho meno forza Se sono appena uscito di prigione Riprendiamoci la spada Che vedo di Dove andare a Uzziz Uzziz è una nuova città Che possiamo saccheggiare liberamente Non vedo l'ora Boh io Mi sa che taglio di qua Oddio però se volo giù è finita per me Fammi un attimo vedere Va bene Va bene di qua Video reaction pesante Io vorrei dire che Mamma dormire Ti ringrazio per il finale Oh che bello Ah sono i kumani questi Ma 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 io Aiuto il cane Ma non è quello che volevo Io volevo ucciderlo Non me l'ha fatto uccidere Solo perché era dentro la tenda Non ci credo Caccia il capriolo I kumani I kumani Aiuto ci stanno i kumani Madonna sto cavallo Qua in decente Un campo rom Ah io non posso Emen usare la spada Ecco qua Senti quella che fatica Che fa Sto accendo più fatichero Del cavallo Però Sono salito di livello Toccarlo è più veloce Ma ha una capacità Di carico ridotta Questo talento Può essere combinato Con un po' Nella soma Ah io metto questo Ok Oh ragazzi Benvenuti In una nuova città Sapete cosa vuol dire questo? Su Lubosch lo storpio Ok Vediamo un po' Lubosch lo storpio I kumani Cos'è sto casino qua? Che è successo? Oddio È un VIP Sono persone importanti Nuove coltellamenti Sì Chi è? Chi è lui? Ci ricorda la gente Non c'è nulla a vedere Oddio È successo qualcosa Ragazzi Where's Shrek? Per chiami San Pietro? Oddio Eccomi qua Io sono Henry Ok Ciò devasta Assolutamente Vitto Sono Balivo di Uth Auschitz Auschitz Tu 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 Tutto tu tu Tutto 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 tu Luvu lulu Ok Ok Bene Hai visto che scrivano? No, non voglio imparare a leggere ragazzi Io ho fatto l'ITIS Non imparerò mai a leggere Figli di puttana Con informazioni su Luboscello Store Da chi? Abitante di Villare Oh Gesù Cioè ma davvero devo parlare di... Devo chiedere a tutti questa roba qua Ma non ci credo Ah vabbè no Non ci credo ragazzi Com'è divertente Ma davvero devo parlare con questa gente? Sì Devo arrivare al punto di parlare con questo Cioè poteva essere chiunque Vabbè Ce l'abbiamo fatta è importante No non lo so Non ce l'abbiamo fatta Cos'è l'interrogatore? Sono tipo il poliziotto Ma vi immaginate una persona Che vuole giocare per bene questo gioco? Ah non ci credo ragazzi Boh Vaffanculo Che gioco è un gioco di merda Ma tranquilli So io come fare Lo so io Eh però mi sa che finché non faccio Parla col prete Raccoglio informazioni su Luboscello Ma quali sono... Non so qual è dei due le più importanti cose da fare Andiamo dal prete Don Marco Don Marco sei tu? Andiamo da Don Marco No infatti era l'aquila La cosa divertente è ovviamente Fare casino ma Manco a dirlo Cosa c'è che non va? Cosa c'è che non va? Eh Sei qualcosa su Lubosce? No non so un cazzo Ciao Dio ti accompagni Sì c'è qualcosa che effettivamente puoi fare Questo! Ah! Iniziamo Iniziamo Ecco qua E si parte signore Si parte E' tempo di farci riconoscere E' tempo di farci riconoscere Ora possiamo andare dalla prete Così almeno abbiamo qualcosa di cui Di cui confessarci Lumir Ragazze della birreria Un letto per la notte Ok Per la notte Male Contrattiamo Ecco Mi ha rispermiato 0,1 Ok Oltre all'edificio Una scaletta che conduce al solaio Oh perfetto Abbiamo risolto ragazzi Dove poter appoggiare La nostra roba Anche se però non ho capito dove E' di qua Per caso Aspè ma La roba molto difficile Non penso di poterla ancora scassinare Vero? Eh no Allora non ho capito Da che parte devo andare C'è il bello che l'ho letto Eh però Ah qua Ok Sentite che musichetta figa Che c'è in sta In sta città Beh è un'ottima stanza Quante stelle è l'hotel Scusate Quante stelle l'hotel Ciao Max Non ci credo Ma Ma state scherzando C'è tutta l'orba che ho dal bugnaio Sono l'endro chest Sono l'endro chest Sono l'endro chest Bellissimo Bellissimo ragazzi Sentite poi che musichetta che c'è Sentite qua che musichetta ragazzi Ok Molto bene Ah qua non mi ricordo Scarpessi lenti Vai Mi ricordo esattamente qual era La mia tuta Vabbè Questo Questo non cambia un cazzo Ok Questa non la voglio Via Queste imbottite nere Sono uguali identiche Però una rubata L'altra no Questa mi aiuta Questo mi aiuta Ok Rumore 1 Cazzo è che fa rumore Figlio È questo Immaginavo Uniforme Serge Ok Apre Iniziato con le droghe pesanti Fai bene Oddio Io Ho iniziato con le droghe pesanti Con questo gioco È una roba allucinante Adesso vedrete Allora Dormi e salvo Dobbiamo arrivare la notte E fare strage Tutto bene Max Tutto bene Questo gioco è tipo Skyrim Però ha fatto molto molto male Minchia Ancora mattina Porca puttana Vabbè Che ci volete fare Sta parlando con me Ah ok Che cazzo ne so io Io ho letto A te come va Ah tu hai iniziato Girisco le droghe pesanti Ok Ok buona sapere Meglio o meno formale Va benissimo Va benissimo Allora Partita salvata Dobbiamo far arrivare la notte In un modo o nell'altro Adesso però Devo rubare del cibo Usa la scala Vaffanculo alla scala Ecco Questa è la mia scala Scassiniamo Nell'hotel Nel quale stiamo soggiornando Ed ecco qua Sì Max è fighissimo Ma lo sto usando un sacco Oggi sono andato in banca E il mio consulente Il mio consulente Che è un uomo di circa Boh Sulla cinquantina quasi E ha detto che lo prende anche lui Gli ho fatto provare E gli è piaciuto un sacco Allora lo prende anche lui Superi le montagne Magari no però Fa dei bei viaggetti dai Dunque Questo è il gioco d'azzardo Mi piace il gioco d'azzardo Visto che comunque Dobbiamo far arrivare la notte Potremmo parlare col prete È questo il prete? Porca puttana Mi stavo per incastrare di nuovo È lui? Padre Gowin Ma sì che è lui Padre Gowin No Godwin Padre Gowin Ma perché non vuole parlarmi? Oh Lubosce Io vorrei sapere Ok Molto interessante Non potrei più eh Figlio di puttana Estorcerò la confezione La confezione con la forza Ok non si può Ho esagerato Scusami Ok ok Cerchiamo di convincere loro stesso Va bene Candio Grazie Viene del Prime E benvenuto Nella Felix Army Immagino lui Non poterlo uccidere Eh no il prete Non si può uccidere Giustamente Vabbè Rubiamo in casa su Allora Qua c'è il cibo Presto Presto Rubiamo da casa Del prete Ok C'è la porta in mezzo Ma chi se ne frega Anche con la porta Noi riusciamo a rubare Lo stesso Bastone Non c'è un cazzo Ma questi preti Poveri proprio Oddio posso dormire dal prete Non è Non è tipo rubare Vino Birra Ok Va bene Io quando giocavo a poker Non schippavo i dialoghi Con la stessa velocità E porca puttana Anche vedere Aspetta Però devo ricordarmi Dove sta la La birreria È questa? Sì Ci metto un puntino Perché poi mi dimentico Sono un cazzi miei Ah no in realtà C'è il segnalino È che c'è Quella gigante lì Che rompe il cazzo Locandiere Ok Spostati Ok Le foto No 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 Quello no Ti muori con sto prete Oddio In che senso Aspettate Devo far passare un po' di tempo E poi riposarmi Ecco Facciamo così E poi Si va a scassinare tutti Siete pronti? Siete pronti con i San Gennaro in chat E i Sergio? Perché sì Andremo a derubare E a uccidere tutti Stanotte Andiamo Andiamo Si è entrato proprio nell'ufficio Ragazzi Sergio in chat Grazie Ok È mezzanotte E a mezzanotte I Sergio rubano A mezzanotte I Sergio rubano Ok Siamo super silenziosi Comunque Con il nostro outfit 20 di visibilità 20 Guarda qui Ci ho anche soltanto Una mascherina Avanti alla bocca E siamo letteralmente Il buio più totale Ok C'è ma sta spazzando Da tipo 12 ore consecutive Questa Capito che una volta Le donne erano più devote Di adesso Però mi siamo un po' esagerato Vabbè Allora Ok c'è qualcuno Che dorme Andiamo Ma Sta porta non si apre Male Ok Aspettate un attimo Vaffanculo Pogli di merda Vaffanculo Pogli del cazzo Aspè C'ho la torcia con me Sì Che ce l'ho C'è una sega di niente qua E si spazza la terra Ecco Ecco Ok ok Spegni a luce No ti assicuro Che non cambia nulla Le meccaniche di sto gioco Sono bellissime Perché Che tu abbia la torcia Con te Oppure Non cambia assolutamente niente Camicia di lino C'è qualcosa Di molto scuro Ora qua No Guarda guarda Io posso anche andare Ecco Fanno troppo di animazioni Versi che fanno Scusati col prete Ma cosa vuole sto prete Vaffanculo Ma che vuole sto prete Si fa le di pelle Ehm È però pesa un quattro Vabbè dai Qui Non c'è niente Vai qua c'è l'altra gente Ho visto Don Marco mi vuole Oddio No Zitto Zitto Che mi sentono Dopo Zitto Zitto Sono molto forte Però Menomale Ok Non c'è nessuno Qui No No Pollo di merda Vaffanculo Aia Non vale Io non ce l'ho La spada Mi arrendo Mi arrendo Ok 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 Ho qualcosa Di rubato No Non penso di aver nulla Di rubato ragazzi Posso accettare il carcere Provo a scappare Addio Via via Oppala Mamma mia Henry si che è tu Fast for polizia Togli la torcia Ma perché pensate che La torcia Mi faccia essere più visibile Forse perché nella realtà è così Ma non in questo gioco Non è così che funziona Ve lo assicuro Eh no Che ho ucciso un tizio Che era letteralmente Appiccicato ad un altro Quindi Purtroppo mi è Si è svegliato E poi Gli ho anche ucciso un pollo Davanti alla faccia Comunque di rubato Ha solo questo Quindi in realtà Potrei anche andarci In carcere Perché qua non c'è da scassinare Per entrare Boh C'è un cazzo Questo è un bel baule E noi Lo apriamo Clic Ok Due cinquanta Vai Un cappellino Che costa Centottanta euro Bene Bene Oddio Non sono così tanto silenziose Come l'altro Sarebbe un fallimento Non dica nulla Non dica nulla Ho fame Per caso Ho anche fame Molto bene Molto bene È di È di marca Cappellino Gucci Suor Cotto Decorato Abito quotidiano No Costato Il popò Ok La luna Brum Oppala Forfante audacia In sta città Ragazzi Già va male Non è partita Benissimo L'avventura In questa città Devo dire Poteva andare Decisamente meglio Molto bene Molto bene Molto bene Allora Ma cosa sai C'è tipo una città di contadini Di stalle Che è sta città di merda Qua Boh Vabbè Noi ragazzi La scassiniamo Ugualmente Ciao Horus Un altro VIP Signori C'è un altro VIP In chat Girus Presto Passagli il link Horus Ho fatto Come si dice Ho creato Il gruppo Telegram Privato Per Per i VIP Ok Sono già da Da galera Quindi Già finita Per me Oddio Qua Oddio Qua Le dure Forse se li stordiscono Non rompono il cazzo Vai vai Ecco qua Perfetto Allora No Ho sbagliato Ma Li ho uccisi No che non li ho uccisi Perché Ma li ho uccisi ragazzi Non mi pare di averli uccisi Sì Ma come Sì Ma non è vero Boh Non vedo Sun Beh quello Ok Boh ragazzi Non capisco Non ho la spada Non posso tirare Di due spadate Perché non ho la spada Vediamo se ne hanno Una Lore Sono morti Di infarto C'è un bastone Vai 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 Dov'è Eccomi qua Vediamo subito Sì Sì son morti Ah no Uccidi Ma scusami Ma non ho il pugnale Con me C'ho il pugnale Per quale motivo Non Non me l'ha fatto usare Boh Molto bene Ma per quale Scurmotivo Non capisco Va bene Non importa L'importante Risultato Ragazzi L'importante Il risultato Niente Il pugnale Non andava più bene Bisogna passare Da attrezzi Un po' più grezzi Vabbè All'uomo Tre colpi Oh Cosa Abbiamo Qui Vedi Non so perché Lui riesco a ucciderlo Vabbè Ok Sono un po' poveri Però questi Ma gli ho appena preso Le chiavi del baule Per quale motivo Non me lo fa aprire Forse c'è qualcun altro Che ha le chiavi del baule Questo però è il mercante Io il mercante Non voglio che Che muoia Perché potrebbe servirmi Non me ne frega un cazzo Ecco qua Tutto Tutto Zacchete Olè È stata la grappa Adora questo effetto Eria Hai proprio ragione Eh non lo so Dar Lì io sto scassinando Tutto apposta Perché non ho Non ho ancora L'abilità Per Oh No No Non ho raggiunto Di scassinamento Vediamo Non so che dirti L'altro Surcote E questa E questa Non è uscita Zacchete Abbiamo ucciso Quattro persone Con questo edificio Sono molto contento Di Di tutto ciò Non l'avevo neanche notata Quella Ecco qua È perito Però se Dobbiamo guardare Proprio queste Piccole 500 Dindi Altri 500 Dindi Però questo Pesa 8 Vabbè Adesso lo Prendiamo Questo qua Pure costa 300 Bene Bene Ottimo Ragazzi Oh Le chiavi Delle Pote Porzione Del bardo Porzione Lazaro Ottimo Molto bene Ragazzi Vediamo se Adesso Possiamo Aprirlo Ancora Ma io Non so cosa fare Ragazzi Sono a livello 11 Puoi aprire Stattamente Le strature Nel complesso No No Non c'è scritto Boh Non so che dire In quella Dov'è Cosa sto per fare Stai per comprare Delle ciabatte nuove Su Amazon Giusto Lo scrivano Ah Allora non possiamo Ma Io vorrei sapere Ma C'è tipo Una caserma Da qualche parte A parte che è gigante Sta città Porca puttana C'è Perché Vorrei ammazzare Le guardie Sarebbe molto Sarebbe molto meglio Il balivo Ma non so Dove Dove stanno Che funzionano I vestiti In gioco Beh Devo dire Che sono Molto vari Perché Sono quelli Ci sono quelli Che ti fanno Essere più Furativo Che ovviamente Sono quelli Come si dice Gli indumenti scuri Cioè guarda Ti faccio vedere A parte La classica funzione Della difesa Però non c'è solo questo Perché guardate Io ho tutti gli indumenti scuri Ho indumenti scuri Leggeri Infatti Visibilità Visibilità È 20 Che è bassissima Appariscenza È 0 Che non esiste Rumore è 0 Quindi In base a come ti vesti Cambiano anche le statistiche Ma non soltanto La difesa Come magari è Da tanti altri Tanti altri giorni Bravo ragazzo Mi sembra un ottimo colore Per delle ciabatte Grazie mille Black Gentilissimo Però mi sa Che lo scribano Vabbè che Lo scribano È quello che mi dovrebbe Insegnare a leggere Però effettivamente Oh Gesù Oh Gesù Bisogna chiudere la porta Le porte Chiudete le porte Per favore Ecco qua E si saccheggia Tutututututututututu Olè Non c'è un cazzo Giacca imbottita marrone 7, no Via Sibawako Ma fidati non prenderlo Non te lo consiglio Turututututututututu Abitante del villaggio Eeeh Oddio c'è uno di fianco Sta uno di fianco No 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 che si sveglia Ah il famoso scrivano questo Ma Ah non posso ucciderlo perché fa parte delle missioni Lo scrivano Vabbè allora Allora niente Continui pure a dormire mi scusi Scusi se l'ho disturbato Il balivo Eccolo qua Allora c'è qualcosa Oh questo vale un po' 3100 Ma è ricco Ma è richissimo questo qua C'è anche una bella mazza L'arma è l'arma Parlo dell'arma Guarda quanto costano le sue cose 620 Ok ok GG ragazzi Ottimo Bene Arrivederci Abbiamo trovato Berlusconi Cioè raga Guardate che cazzo ho trovato Cioè I mugnari dovranno sborsare un bel po' Mi sa 3100 Porca puttana Abbiamo fatto veramente tombola qua Ricco ma non subedo nei bits È un difetto lo ammetto È un suo difetto Comunque qua di notte non ci sono guardie Cioè Assurdo Nessuno che va in giro Delox Grazie mille del tuo Prime Bello Benvenuto nella Felix Army Benvenuto Benvenuto Con la corazza che ha rubato al balivo Però Non l'ho messa Quindi effettivamente non c'è quel rumore Ma sono a casa del prete Ok Sono a casa del prete Però tanto Rumore zero Quindi non potrà mai svegliarsi Veste da mo La veste da monaco No dai lasciamogliela Sennò poi come va in giro questo A professare Vediamo se il prete Ah Eeeh Ha una signorina il prete In casa con lui eh Sei da Don Marco Abbiamo una signorina qua Ah non si può nemmeno uccidere E nemmeno stordire E non c'è nemmeno un cazzo a rubare Affanculo Prete di merda Non ci sono bambini nella casa No Non ci sono bambini ragazzi Possiamo rubare la chiesa Andiamo 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 Ah Ma Ah ok Ma c'ha una porta sta chiesa Paghi indulge No col cazzo Con il Cazzo Qua Mamma mia non c'è nulla Vai Vai questa è una casa che posso scassinare E svuotare Sicuro Mi sono fatto la carità oggi Ok Ecco qua Clic Concubina proprio Senza vergogna E beh si tratta bene Il prete Tutututututututu Oh oh Ormai ho perso il conto Di quanto è stato Lo scassinato Ah ok no Avevo letto una cifra di troppo Diciamo cazzo Un grembiuli costa 600 Ok no Ci è speso tutto in puttane Quel prete lì ragazzi Non me la racconta giusto Oh Bobby Eh Ok Qua Ok L'indomani Risveglio Soltanto scrivano Il barivo E la povera doddina Si è accorsa Di essere L'unica Mica ma poi Il bello dello scrivano È che Gli ho ammazzato Il tizio di fianco Cosa Non c'è nessuno Qui ciao Ma Ma Questo è È l'unico tizio Che sta difendendo Aspetta Posso togliere Oh Una ma Ah C'ho la mazza Porca puttana Figlio di puttana Pia te sta mazza E pia te la mazza Sì ma E pia te la mazza Eh che cazzo Però Vaffanculo Figlio di puttana Sparisci Ecco Ma Ma ragazzi Ma non c'è tipo Della gendarmeria Da queste parti Non c'è la pula In sto posto Cioè lui Che cazzo è Lui è il difensore Della città Non capisco Non capisco Raga Ecco E ti è il bastone Dove eravamo rimasti Bene ragazzi Torniamo a noi La torcia è spenta La torcia è spenta Ma sta illuminando Lo stesso Non ce l'ho all'arco Fornaio ZAC Hai decimato Il peso Si ho capito Ma non ci sono le guardie In sto posto Questa è verenza Contro le donne Mi dissocio Ovviamente Non è vero Allora Frittella dolce Che belle animazioni Che ci sono Che poi Io ho capito Una cosa Che ai tempi Io ho capito Che ai tempi Non è che ci fossero De grandi tecnologie E però Porca puttana Io sono Quinto che C'era di meglio Delle panche C'è Cazzo Imbottire qualcosa Con della lana Ma chi cazzo Vero Dormiva Dormiva nelle panche C'è scusate Ma nessuno Dormiva veramente Nelle panche Achievements Bloccato Spiloro Chissà cosa ho fatto Vediamo se c'è qualcuno Qua Hello Non c'è Non c'è nessuno Sì ma Io non capisco Ho le chiavi Di tutta la città Praticamente E porca puttana Ci sono ancora Delle cose Che non mi fa aprire E vabbè Un altro cappello A 180 Un altro cappello Gucci Oddio Sta fa giorno Presto Ma qua è il posto Dove sto io No cazzo Ormai raga La notte è finita C'è qualcosa Che non ho ancora Scassinato In sta città Eh Non troppo Eh Dall'altro lato Qua C'è sicuramente Della Della Gente Hanno un letto E non lo usano Non sono molto intelligenti Questo si è capito No No Sta fa giorno No Ah però aspettate Che ore sono Ok Sono ancora le 5 Abbiamo imparato Che in sto gioco La gente si sveglia tardi Quindi Abbiamo ancora Un pochino Un pochino di tempo Per fare Le nostre Presto Presto Ta 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 Ok Hai fagato per notte Nemmeno dormite Hai ragione Not stonks Ma è tornata a dormire La gente Non capisco Savitar Grazie mille Del prime Ti dedico Queste due kill Una E due Tutte per te Grazie mille Grazie mille Savitar Grazie tante Olè Si è alzata Per andare in bagno Quale bagno Oh Mamma mia Poi c'è tutto il pugnale No Si sa mai Che entri Qualche malintenzionato Vi magno pure Gnam Che buono Ottimo Vediamo Se avete Qualcun altro In casa Oh E questo Chi è Abitante Del villaggio Ci sono veramente Tanti abitanti In questo villaggio Ma che colli hanno Sono molto lunghi Eh Darwin E le giraffe No Per sapersi adattare I tempi Avevano i colli Più lunghi C'erano Scusa È vero Non ci stanno più Oh Ma sì Dai Ma sei odiato Da guardia I cittadini Sicuro Guarda C'ho anche Il simbolo Di che devo andare In carcere Cioè Se non sono odiato Io veramente Chi cazzo hai odiato Oh Come se lavora bene Con la porta in mezzo Molto bello C'è un cazzo Beh oddio Due e trenta Dai buono Eh i guanti però Pesano mezzo Eh Poco Vai Gli prendo Cane di merda Affanculo Ecco Abbaglia qualcun altro Stronzo Bene Ciao Alessandro Eh ragazzi Eh lo so Lo so Qua non c'è nessuno Ormai non esistono più abitanti In questo villaggio Voglio vedere Se oggi ci sarà la stessa gente Che c'era ieri Davanti Davanti alla casa Là Voglio vedere se c'è La stessa gente Oddio qua è dura Però eh Vabbè ma tanto chi è che viene a fermare Oddio quanto urla Che cazzo hai detto troia Zitta Non uccidere troppe persone Va bene Sarf Tranquillo Non uccido troppe persone Promesso eh Abbiamo conquistato la città Ragazzi Abbiamo conquistato la città Ottimo Sto sentendo delle galline ragazzi O è una mia impressione Sono animali E se le sento Vuol dire che sono vive le galline Molto male Molto male Aaaaaa Le 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 Zac Zac Olè Ecco fatto Oh Ah Ma lui è il balivo Dove sta andando? Chi c'è? C'è una gallina Dentro la casa Ma perché c'è una gallina Dentro la casa? Ecco Allora Ormai ho capito che il balivo Non posso In nessun modo Ucciderlo Però Posso incastrarlo Da qualche parte Metti nella pentola Ah no Pensavo di poter mettere Il balivo Nella pentola Ah non ci sono riuscito Volevo cercare di buggarlo No Non è vero Chi è? Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? C'è qualcuno Ah il prete non ci posso fare molto Manco volendo Lui è un uomo di pace Vabbè Ok Dove? 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 Cosa? Viece Viece Ah ecco Secondo voi ragazzi Com'è la reputazione In questo villaggio Fate vedere Meno 100 Ci sono dei cadaveri Dove? Dove sono? Dove sono? Ci sono dei cadaveri Vai a vedere Oddio questo è velocissimo Ecco Ecco fatto Tutto c'è bellissimo ragazzi Che meraviglia Oh degli altri guanti Ottimo Comunque il prete Al prete non frega un cazzo C'è bellissimo Basta Eh parliamo Eh scusami Mi dispiace No Mi dispiace Oddio Ah quindi il balivo era qua Ma Basta Ah però non l'ho ucciso Ok Vieni qua un attimo To Fate una Una bella Lavata Ecco Adesso non mi disturberai più Scusate C'è qualcun altro Vivo in questa città? C'è Prima di mente Questa città ragazzi Non ha delle guardie Mi state dicendo Cioè voi Mi avete veramente Messo in una città Dove non esistono guardie Non so se vi rendete conto Dove? Dove? Uccisione furtiva Ce la sai Nessuno mi vede Dove? Dove? E' bellissima ragazzi Sta città Ma che Nuovo livello raggiunto In fortività Nessuno mi vede Ragazzi Nessuno mi vede Niente E' diventata ufficialmente La mia città Questa Cioè io sono diventato La legge E va Dove? Fammi vedere Brum Ma come ha fatto D'uscire? Ragazzi Non capisco Se sta città Si è buggata o cosa Però non ha senso Ok Tutto ciò comunque Non ha senso Come faccio Incastrare Devo incastrare Il balivro In qualche modo No Devo riuscire a incastrarlo Da qualche parte Però non so dove Non so dove Dove incastrarlo Vediamo un po' di qua Cosa c'è Boh Vabbè C'è un cazzo Tanto ormai La città è mia Cioè posso E' 30 Fare il cazzo Che mi pare L'unica guardia Attualmente Viva Perché è Invincibile È il balivo Ma Non è Assolutamente Dannoso Quindi Poco male Poco male Direi Ok Comunque C'erano un po' Di vittime È tempo Un attimo Di Derubare Ok Perfetto Il contadino Già derubato Un'altra Signora Ok Grazie Molto gentile Ci sono solo Cadaveri In questa città Ecco qua Oh Questi valgono un pochino Molto interessante Dei soldi La torcia Posso anche toglierla Ma Non fa troppa differenza E lo Io voglio vedere Quante cazzo Di chiavi ho In totale Buongiorno Ma non ho preso Livelli nulla Cioè meglio Ho preso i livelli Ma non ho preso i punti Abilità Vai Tanto ormai Nessuno può dirmi nulla Quindi posso anche Uccidere Si sono accorti Che ho ucciso Una persona Davanti a loro Vabbè ragazzi Sta città È assurda Comunque C'è qualcosa Che non qua Dove è andato Brum Dove vai Vieni qua Ci penso io Te Dove sono tutti Beh Io ho qualche Ma niente Il balivo Ma sta scappando Ma dove va Niente La legge Sono io Basta La legge Sono io Nessuno può dire nulla Che meraviglia Ragazzi Ma la reputazione È almeno 100 La reputazione Ma la cosa bella È che non esistono Guardie In sto posto Non è neanche divertente A un certo punto Perché non esistono Le guardie Finiamo di derubare Tutta la città Uccidiamo tutte le persone Possibili da uccidere E poi niente Direi che possiamo Cambiare città E tornare dovevamo prima Non lo so Grazie Ker Kergonog Grazie mille Caro del sub E benvenuto Nella Felix Army Vedo un po' di sub nuovi Sono molto felice C'è oggi tanti sub nuovi Nonostante questo giochino Del caso Sono molto contento Seriamente Ok Vai vai Minchia il mugnaio Ragazzi Veramente I soldi che mi deve Lo sa solo lui Guarda Ok Minchia è volato Comunque oggi pomeriggio Ah è divertente Fare razzia Delle persone In sto gioco C'è poco da fare C'è poco da fare C'è il gioco Può anche far schifo Può essere fatto male Può avere delle missioni Noiosissime Assolutamente Però quanto cazzo divertente Uccidere qualsiasi cosa Ti capita a tier C'è perfino Picchiare i polli Divertente in sto gioco Ok C'è ancora un essere umano Oltre alle guardie Oltre alle guardie Nemmeno gli esseri umani Esistono più Nulla c'è in questo villaggio Ok Voglio vedere quante chiavi dei baguli possiedo 89 dei forzieri 93 delle porte C'è C'è Ragazzi Ormai ho qualsiasi Qualsiasi chiave esistente Un essere umano Questo la dedico a cacca ciao Grazie mille del prime E ti becchi sto uccisione furtiva E zacchete Tutta per te Grazie mille del sub Bello Puffete Vai poi giù A me la zappa non la posso prendere Come San Pietro Siamo diventati San Pietro No 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 Nuovo livello in agilità Ho tratto l'ammazzata di un maiale Nuovo livello in agilità Asaghi Asaghi Laviamoci un attimo Il coltello non si sporca Il coltello è magico Non esiste più nessuno ragazzi In sta città Non esiste più nessuno ormai Eh sto le collezionando le chiavi Si Ha il tornado pronto Ok Ottimo Yasu Asaghi Asaghi Ecco fatto Lo so skilli E' vero però Finchè non sono a livello abbastanza alto Per poter Come si dice Per poter sbloccare le strature molto difficili Che in realtà non so quanto ancora ci voglia Perché Pensavo di essere a buon punto Ho deciso di scassinare tutto per salire di livello Perché non posso ancora scassinare le strature molto difficili Quindi Ho pensato che Ho pensato di non essere a livello abbastanza alto Capito Ciao Mad Ops Ecco qua Grimaldelli Quanto ore di infilare il valivo qua dentro Ruba Cosa c'è il carbone Ma che serve il carbone Non fa niente Può stare lì E comunque non costava un cazzo ricordo Un essere vivente Ah ma è il valivo ok E' l'unico essere immortale Sì però in realtà stai scappando Oh E' velocissimo E' velocissimo Vabbè raga ma quanto è veloce Ma non lo riesco a prendere No prima o poi si stancherà anche lui E' Bolt cazzo Buongiorno signori E' un vostro amico questo Che bello ragazzi La 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 Uccidiamo tutti Ecco Che perla ragazzi Sì Fenty Puoi uccidere i passanti in questo gioco Ma non tanto in questo gioco In particolare in questa città In questa città puoi uccidere chiunque E non ti succede nulla Ma nulla proprio eh Cioè puoi fare qualsiasi cosa Non sto scherzando In questa città puoi fare tutto E non ti succede nulla No non è cheating ragazzi Giuro Non so che è successo Perché è solo in questa città Oltretutto eh Soddisfacente Allora ammetto che è soddisfacente Però E' lui Stavolta no Pezzo di merda Ecco Torna qui Eh Daniel Ma perché in questa città Non esistono le guardie Quindi letteralmente E' di tua proprietà la città Sì sì Non posso proprio far nulla Non so se posso comprarmi il regno Ma sicuramente la città E' sotto il mio controllo Più totale Posso mettere il balivo nel carretto Aspettate un attimo C'è una persona Zlata Zlatan Ibrahimovic Oddio Bella Kevin Grazie Bello Grazie tante Kevin è un po' che doni Cheers Sai che a mille Cheers hai la ruspa Di fianco al nome Per sempre Grazie comunque Caro Devo trovare un posto Dove baggare il balivo Devo incastrarci Da qualche parte Vabbè Non so che dire Zacchete 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 Ecco qua Ah Stai lì Vabbè Che gioco è? E' un gioco particolare Io non so dove incastrarlo Raga Non so dove incastrare Sto tizio Le pecore Avrò la mia vendetta Su di voi Eh non potete scappare Oh Placcatela Placcatela Ah Ma Ecco Fermali Un'altra Ma allora Una disciplina comune Questa Nel mondo delle capre Rotta Comun kebab No ma estremamente Non posso incastrare Il balivo Da nessuna parte Che palle Eh no Stai giù per favore Ma cosa sto guardando Ragazzi Vieni qua Allora Beh qua che in discesa No Ho sbagliato Vabbè No non posso ucciderlo Vedi E' in grigio Baio Non si può uccidere il balivo Ok Ok Boh Lasciamolo lì Non so che dire Non c'è modo di incastrarlo Ok Si è piegato come un libro Niente Abbiamo ufficialmente Conquistato Tutta la città Ragazzi Pecora kebab Vabbè E basta Direi che Abbiamo finito Di saccheggiare Questa città Però vedo Che comunque C'è ancora Ah no C'è un altro pezzo Di città Laggiù Tipo una frazione Del comune Tanto c'è un cazzo qua E' entrata una città Fantasma Tutti gli effetti Le uniche persone che vive Sono il balivo Il prete E la sua signorina Basta No Oh gesù Cacca ciao Che i redix No No eh Ah ok Meno male Porca puttana Questo ho già saccheggiato E che cazzo è Boh sì Cacca ciao Grazie mille Dei cheers Gentilissimo Grazie a vero Tante Ma lo sai Cacca ciao Sì lo sai già Che puoi ottenere La ruspa Di fianco al nome 316 316 No scopo E Ecco fatto Oddio Oddio ragazzi Ok Ok Ma il prete Ma una spada Il prete Asagi Aiuto È fortissimo Il prete Aia Aiuto Scusa 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 Bene Bene Ma non ce l'ho L'arco Ragazzi Non ce l'ho Perché L'ho lasciato Nel baule Per derubare La notte O Siamo saliti Di scassinamento Questo è molto buono E non solo Anche di forza In caso Danni più gravi Hanno un costo Il migore più alto Ok Un colpe la testa Ok Mulo mi interessa Perché così posso Urbare più roba Molto interessante Ma esiste ancora gente qua Non c'è più nessuno Ma non c'è più nessuno Ormai Oh Attenzione E invece c'è ancora qualcuno Zacc C'era ancora qualcuno Adesso non c'è più Aveva 0,8 monetine Ok Vorrei salvare In questo momento Devo tornare alla locanda Aspettate Ecco Il prete è andato a suonare La campana Perfetto Nick Nick Perché questo gioco Che tu lo voglio o no È una droga C'è poco da fare C'è un cadavere qui Ok Oddio C'è un cadavere Ciao balivo Aiuto E niente Dov'è il cadavere Dov'è Zacc Usain Bolt Super Gamers Grazie mille Super Gamers Del sub E benvenuto Nella Felix Army Oggi ragazzi Vedo tanti sub nuovi Sono veramente Veramente contento Grazie mille Carissimo Ok Basta Niente Lei è tornato a spazzare Secondo voi Se gli metto il cadavere lì Lo spazza Ah Devo pagarli Giustamente Vabbè Vorrei dire che faccio Self service Ancora 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 Ragazzi Io non so quanti livelli Mi ci vogliano Ormai inizio a pensare Che sarà qualcos'altro Per sbloccare Quelle molto difficili Tante anime sulla coscienza Oltre i sub Giusto Non è più mio Porco Porco Vabbè Vediamo se dormo Mi salva Vediamo un po' Boh Stermi nella città È quello che ho fatto Volevo lasciare Locandieri vivi Perché così almeno Potevo dormire Però ormai la reputazione Me lo impedisce Eh mi sa proprio Che devo andare Dal mugnaio Ragazzi Mi sa proprio Di sì Un'altra cosa bella È che In questo gioco Non sei ricercato ovunque Cioè non è come Oddio No in realtà Anche in Sky Era così Praticamente Se tu sei ricercato In una città Non per forza Cioè non per forza Si è ricercato Anche in un'altra Avevo pulito un attimo fa Comunque la città È mia ragazzi Mi piace troppo Questa cosa Stai zitta Sì anche in Sky Ma assolutamente Grazie di FD Cheers Allora Con la No la sciarpa No Tenta la purità È la sciarpa Vediamo un po' No No Oh C'è scritto Chiave dei bauli Oh Eccolo qua Minchè per avere Cioè baule molto difficile Per avere tre ore e sei Ma che cazzo Ecco Non esiste più nessuno In questa città A me che meraviglia Ah però Sti stivali in pelle Ah però Ecco A te ne via C'è un cadavere ragazzi Bellissimo Meraviglioso ragazzi Meraviglioso La città è mia Ragazzi Ah lei non posso Ah è la concubina Ok Mamma mia che meraviglia La città è mia La concubina non la posso uccidere Dove dove Non lo vedo Oddio Ma giucato Adoggiato meglio dei bronzi Adoggiato meglio dei bronzi Oddio quanto è veloce Ah è così che funziona Ma allora Non ci siamo capiti Ma che casino ragazzi Tattaratta 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 Hai ragione Kazer Senza arco non è la stessa cosa Vabbè dai Direi che abbiamo fatto abbastanza Per oggi Meraviglioso Oddio Ah questo lo scrivano Anche sto a dire Vabbè però Oddio si sta ripopolando la città Imbalivo Boom C'è qualcuno C'è qualcuno che vuole combattere Allora qua Non ho più Maestro d'arco Vaffanculo Ok Che meraviglia ragazzi Qualcosa dice Io sono convinto che prima o poi Uccidere qualcuno Mi fa Buggare le missioni Ma quanta gente c'è Questo è quello di prima Che sta scappando Ecco qua Questo somiglia ad Henry Sarà un fratello Ok Molto bene ragazzi Molto bene Vabbè Comunque C'è davvero All'improvviso Arriva un sacco di gente Non so per qual motivo Ma all'improvviso Arriva un botto di gente Ah Ecco qua E adesso Non doggiano più Chi è che devo Lutare ancora Questa Tu stai giù Un attimo Ok Ok Che cose meravigliose Che accade Poveretto Ormai è scioccato Guarda quanta gente Sta arrivando Vabbè Ok Ragazzi Salva e esci Ragazzi Io non so che dire È fantastico tutto ciò È meraviglioso È meraviglioso Vabbè Ci siamo prolungati anche troppo Perché l'ultima sessione Era troppo bella Ammazzare tutti Posso dire che sono scioccato Allora Io in definitiva Comunque voglio spendereci un attimo Due parole per questo gioco Che Fa schifo A livello tecnico Ok Perché è un gioco che nasce Non per essere troll Ma per essere serio Ok Nasce per essere meglio di Skyrim E niente Questo è il risultato Che per quanto mi riguarda È fantastico È veramente fantastico Quindi GG davvero Grazie Grazie